Elisabetta. Voleva incontrare la donna. Dice la donna dei suoi sogni che sarebbe Elisabetta. Allora Gigi, fai un passo a destra. Lo aiutiamo? Sì. Signore e signori, accoglietelo con un grande applauso. Il nostro amico Dino! Ma che è? Eeeh, trapparane! 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 Aia! Aia! Ciao Dino, benvenuto a Made in Italy! I... Mandi! Che schifo! E' incontaminato, mantieno! Io so Dino il contadino, cerco una mogliettina e vengo da grippino! Eh, mantieno, è incontaminato! Che schifo! Io so Dino il contadino, cerco una mogliettina e vengo da grippino! Abbiamo capito questo? Finisce tutti Nino? No! Sono stato anche fidanzato già! Ah, come si chiamava? La mia ex! Sì! Eeeh, Beatrice! Scusami Dino, scusami Dino! Che? Cretino! Fa anche rima! Ehm, com'era il vostro rapporto? Bene, stavamo spesso insieme la sera e quando finivamo lei faceva sempre, beeeel si sa, beeeel! Sei sempre stato bruttarello da vicino! Lei era soddisfatta, no? Lei era soddisfatta, sì! Alla fine poi cosa ti è rimasto di questo rapporto? Due maglioni di lana! Vieni più avanti, Dino! Ocafo! A me! Ocafo! A me sa! Due maglioni di lana, ma... Era una pecore, Dino! Beeeel! Ma che fa? Trapanare! Spaglia! Fai male! Trapanare! Trapanare! Ocafo! A me! Ma stasera sono qui per conteggiare la Gregorash! Eh, l'abbiamo detto! Che sia la Gregorash! Si ci sta, ma sicuramente non accetterà! Non è una cosa semplice! Eh, sì! Soldi! Becchiaia! Eh, hai capito? Sì! Eh, sì! È sempre bella! La chiamiamo? La chiamiamo? Sei pronto? Elisabetta! Vieni Elisabetta! Eh, addirittura! Addirittura adesso! Sì! Eh! Si è imbalanzato! Come sei bella! Grazie! Elisabetta! Grazie! Elisabetta c'è il bambino di Super Vicky che vorrebbe farti la corte! Come faccio? Allora, vai! Dille come la puoi corteggiare! Come la corteggiare! La prendo? Sì! La guardo? Sì! L'adoro? L'adori! L'annuso! L'annuceo! L'annuceo! Che bel profumo! Grazie! Uso solo Chanel! E tu? No, due gocce di Friariel! Ha 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 ha! Giusto bello! Giusto bello! Ha 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 ha! Però sta andando bene! Che belle unghie! Che belle unghie! Grazie! Qual è il tuo colore preferito? Il rosso! Rosso? Secondo me è Pompeano! No, a me è nire mulignano! Devi corteggiarla con una frase ad effetto! Sì! Tipo che ne so! Il tuo pallore notturno mi ricorda la luce di una stella! Il tuo pallore notturno mi ricorda la luce delle stelle! Il tuo pallore notturno mi ricorda la cura mozzarella! Come è la mia piazza del marmello! Al macchia! Sinon al macchia! Maui fuori! Siamo millenni! È che è in camera! Siamocel! Ciao!